Eccoci qui ragazzi allora, benvenuti nel video che tutti quanti voi stavate aspettando e cioè l'analisi completa, ufficiale, definitiva, chiamatela come volete, dell'ennesima stagione deprimente in casa Roma. Ero indeciso se fare il classico video delle pagelle post Siviglia Roma, ero indeciso se portare subito il pagellone di tutta la stagione, ma per questo genere di video ho preferito aspettare. Per quanto riguarda Siviglia Roma non lo farò per niente, per quanto riguarda invece la stagione in toto probabilmente tra qualche giorno uscirà il video perché ve l'avevo promesso, ma vi giuro che dopo la partita di ieri la voglia di farlo, registrarlo e montarlo rasenta attualmente lo zero. Per comunque mettervi un video in questo lasso di tempo ho deciso appunto di fare questa analisi per parlare in maniera completa di tutte le competizioni che abbiamo disputato e di cosa penso attualmente della stagione da poco conclusa, anzi conclusa da ieri, della nostra Roma. Allora, per poter trovare un termine che accomuna tutte le competizioni di quest'anno ho deciso di affidarmi alla discontinuità. Rispetto all'anno scorso, che comunque è stata un'annata discontinua e questo siamo tutti d'accordo, quest'anno abbiamo visto cose migliori in alcune partite. Il problema è che, come sempre, queste cose positive sono state completate, diciamo, da delle prestazioni a dir poco allucinanti. Le prime che mi vengono in mente, il trittico di sconfitte con Milan, Napoli e Udinese soprattutto, la partita di ieri col Siviglia e il disastroso 4-2 in casa del Sassuolo. Ho preso in esame queste cinque partite per analizzare e per riassumere la discontinuità della Roma che in alcune partite è sembrata poter regalare calcio spettacolo, come Udinese Roma, Roma-Napoli, Roma-Milan e tutto il periodo, diciamo, conclusivo post-Covid. Mentre in altre partite è sembrata completamente in bambola, non con una prestazione insufficiente, con prestazioni, con partite regalate completamente ai nostri avversari che hanno fatto sul campo quello che volevano. Quindi ho voluto scegliere la parola discontinuità per riassumere tutte le competizioni che la Roma ha disputato quest'anno. In campionato abbiamo ottenuto un quinto posto, con 4 punti in più rispetto alla scorsa stagione, terminata con un sesto. Purtroppo però, come tutti quanti avrete ben notato, è un quinto posto un po' farlocco, perché hai praticamente ottenuto la stessa cosa che hai ottenuto lo scorso anno, perché l'anno scorso il Milan quinto ha rinunciato l'Europa League. Quest'anno sei arrivato sopra il Milan, ma hai ottenuto comunque l'accesso diretto ai gironi di Europa League. E sì, sapevamo tutti quanti che era difficile arrivare quarti, visto il momento di forma dell'Atalanta, e vista la stagione della Lazio e di Juve-Inter. Però non nego che essere convinti del quinto posto a parecchie giornate dal termine non mi ha reso particolarmente felice. È vero, poi comunque è meglio fare i gironi piuttosto che i preliminari. Però, visto che l'anno scorso comunque aveva ottenuto questo risultato, tutti quanti speravamo di alzare un pochino la sticella. Invece, fatta eccezione per qualche gol segnato in più e qualche punto ha ottenuto in classifica, il risultato ottenuto è sempre lo stesso. E tutto si può dire, meno che sia un qualcosa di soddisfacente. Ieri Fonseca nel post-partita ha detto comunque bilancio della stagione positivo. Io non sono tanto d'accordo, sinceramente, perché l'anno scorso hai ottenuto le stesse cose, pur avendo la Champions League, con squadre nei gironi comunque non impossibili, come Vittoria Pölsen, CSK Mosca, eccetera, eccetera. Ma al tempo stesso è un impegno, secondo me, più roboante dell'Europa League. Anche perché quest'anno ai gironi abbiamo incontrato squadre, almeno sulla carta, ridicole come il Wolfsberger, l'Istanbul Basak Seir, il Borussia Monjenglavak, che era la squadra più blasonata, ma anche a livello tecnico non erano, e non sono tuttora tutto questo gran, che credo che addirittura siano usciti anche ai gironi. E quindi, appunto, con dei gironi più semplici e con un'Europa più facile, diciamo, da portare avanti, mi aspettavo sinceramente qualcosa di più. Oltretutto, con questa pausa del Covid hai avuto la possibilità di giocarti l'Europa League in maniera semplice. Poi sappiamo che le partite non sono semplici, per carità, non sto dicendo che la Roma doveva vincere 10-0 col Siviglia. Però tu hai avuto la possibilità unica, più unica che rara, di poter vincere tre partite e arrivare in finale di Europa League e sei uscito direttamente agli ottavi senza un briciolo di dignità. Non è la sconfitta che mi ha fatto arrabbiare ieri. Ne ho parlato 10 minuti, quindi non voglio starne troppo a dilungare su quello. Ma il fatto che la squadra non ha completamente capito l'importanza della sfida, anche con le assenze che ci possono stare, con tutti gli attenuanti del caso. La squadra ieri si è fatta completamente umiliare sul campo dal Siviglia. E con tutto il rispetto posso capirlo dal Barcellona, ma dal Siviglia no. Che è una buonissima squadra, lo ripeto, però ti hanno umiliato. I giocatori in campo non erano così tanto più forti di quelli che invece avevi tu. Anche con le assenze di Smalling e Beretù. Ho fatto anche la rima, pensate che bello. A parte questo, l'Europa League è stata secondo me sottovalutata, soprattutto in questo momento. Ai gironi tu sei passato comunque, questo è l'importante, ma arrivare secondo dietro l'Istanbul, Basak Seir, e pareggiare col Volkswagen, fare un punto col Borussia, sì, uno sappiamo bene com'è arrivato, ma comunque ha fatto sempre un punto. E praticamente arrivare secondo in un girone dei cartoni animati, prendo una citazione di Mastrangelo, non è stata una grandissima cosa. Poi sei stato fortunato perché ai sedicesimi ti sei preso la prima classificata più facile di tutte, cioè il Ghent, e comunque contro il Ghent sei passato a fatica, perché l'andata ti hanno umiliato, non segnando solo perché avevano un attaccante imbarazzante, tu sei riuscito a vincere 1-0, non sei neanche tu come. A ritorno hai fatto 1-1, ma anche in quella partita non si sono viste grandi cose, cioè hai avuto la fortuna di pareggiare, dopo loro dovevano vincere 3-1 per passare, ma sia andata che ritorno non hai giocato bene, e poi ieri abbiamo visto tutti quanti la prestazione orrenda che tutta la squadra ha fatto. Quindi l'Europa League io la boccio completamente, gli do un bel 4,5, se bisogna dargli un voto, perché con le squadre affrontate si poteva fare assolutamente di meglio. Non è l'uscita dagli ottavi e basta che mi dà fastidio, ma come l'hai ottenuta in fin dei conti. Tornando brevemente al campionato, diciamo che qua il voto si alza leggermente, perché piuttosto che in 4,5 si può dare un 5,5-6, perché sì, è arrivato un quinto posto, ma se guardiamo l'annata delle prime quattro, era difficile stare al loro passo, visto che si tratta di squadre più forti tecnicamente, e comunque più rodate rispetto alla Roma, che ha cominciato e ha ricominciato l'ennesima, e ha fatto l'ennesima rivoluzione in parole povere. Fatto sta però che comunque, con un po' di attenzione in più, potevi tranquillamente giocartela fino alla fine. Purtroppo hai pagato l'aver perso entrambi gli scontri diretti contro l'Atalanta, e quei periodi bui, senza un effettivo motivo, che ti hanno condizionato alla classifica. Questa è una cosa che continuo a non capire. Come mai la Roma all'improvviso esca completamente dai radar, si spegne completamente, e i giocatori più in forma fino a quel momento diventino aberranti. Perché, diciamoci la verità, la Roma ha buttato la qualificazione ai gironi di Champions nel periodo da gennaio a fine febbraio, e con quelle tre sconfitte consecutive post-Covid, e soprattutto negli scontri diretti con l'Atalanta. Però ci sta magari perdere quelle due partite. Non ci sta che tu da inizio gennaio fino a fine febbraio non ne vinci neanche una, e prendi quattro gol dal Sassuolo, tre gol dal Bologna, fai prestazioni allucinanti, vinci partite con un culo sfacciato, poche, ma comunque è successo. Non va bene assolutamente, perché la squadra ha dimostrato di non avere per nulla la continuità che serve per raggiungere questo obiettivo, ed era un obiettivo troppo importante, se ci pensiamo. Inizialmente lo volevamo raggiungere con il campionato, e non ci siamo riusciti. Poi abbiamo spostato l'attenzione all'Europa League, perché dici, vai in finale, la vinci, vai a giro di Champions, e sei uscito agli ottavi. Non sono per nulla soddisfatto di come siamo andati questa stagione. L'Europa League era l'unico appio per poterla rendere comunque importante, e uscire agli ottavi così l'ha reso con il lavoro fatto finora completamente insufficiente. Quindi, se all'Europa League do un 4,5, al campionato do 5,5, perché sì, era difficile stare al passo delle altre, però potevi fare di più. Posso prendere tutte le attenuanti del caso, i tanti infortuni fino a inizio novembre, anzi, fino a dicembre, che comunque non sono solo sfortuna. Un po' di colpa nella preparazione bisogna darla, oppure no. E poi appunto il periodo con tutte quelle sconfitte da gennaio, febbraio, e quelle tre sconfitte post-Covid, hanno rovinato praticamente l'obiettivo finale. E appunto questa è una cosa che non va assolutamente bene. Fermo restando che comunque le altre davanti hanno fatto un campionato a parte. Però con un po' di attenzione più, secondo me, ci si poteva tranquillamente stare dietro. Parlando invece della Coppa Italia, io qua diciamo che tra tutte le competizioni è quella che giustifico maggiormente. Abbiamo fatto comunque una figura di merda, questo sia chiaro. Però diciamo che la sfida contro la Juve è quarti di finale. Negli ottavi comunque non parlo, perché comunque quelli li abbiamo giocati bene e vinti con merito, su quello non ho da dire, è arrivata nel momento peggiore perché con la squalifica di Dzeko hai dovuto giocare con Kalinic che non era certo nel momento migliore di forma e anche nel momento migliore non parliamo di un fenomeno. Hai giocato con tante assenze in difesa, centrocampo e attacco. E contorna Juve che era nel momento migliore della propria stagione. Se avessimo incontrato la Juve nel finale di campionato e magari con tutti gli effettivi probabilmente la partita sarebbe andata in maniera diversa. anche perché nonostante la condizione fisico-mentale disastrosa che avevamo in quel momento abbiamo fatto comunque un gol ce ne siamo mangiati uno con Kalinic e due dei tre gol mi viene da dire le abbiamo comunque regalati. Quindi con un po' di attenzione in più con un po' di attenzione in più scusate si poteva anche gestire meglio. Però questa è quella che giustifico di più perché in partita secca allo evento stadium è sempre difficile fare risultato e la partita è arrivata nel momento in cui eravamo messi peggio se vogliamo e quindi ecco quella è l'unica competizione che giustifico gli do comunque un'insufficienza perché non c'è una competizione che mi ha convinto dall'inizio alla fine diciamo anche qua un 5 e mezzo per essere buoni però ecco ci sta perché a partita secca contro la Juve allo stadium non è mai facile ottenere risultato soprattutto appunto quando la Juve è nel miglior momento della propria stagione per quanto riguarda i giocatori ne parlerò meglio sul pagellone che è uscirata qualche giorno quindi non mi sto troppo a dilungare c'è da dire che per quanto riguarda gli acquisti fatti nel mercato estivo complessivamente non mi hanno deluso particolarmente a parte uno e sapete benissimo di chi sto parlando purtroppo per la seconda annata consecutiva hai sbagliato l'acquisto del portiere e come ha sottolineato aspettando il tattico che saluto sul suo ultimo video il portiere ha un ruolo troppo importante per una squadra soprattutto se tu cedi uno dei migliori portieri al mondo non puoi sostituirlo un anno con Olsen e l'anno dopo con Paolo Lopez due portieri che in confronto al tuo secondo che è mirante 38 anni fanno cagare fondamentalmente su Olsen ci siamo già espressi troppo su Paolo Lopez purtroppo bisogna fare un discorso a parte perché oltre al livello tecnico è anche la mentalità che gli sta mancando in questo momento sembra completamente spaesato distratto fuori luogo esce a cazzo non esce quando deve uscire esce a cazzo quando deve farlo non esce bene non para non è sicuro non comunica oggi Paolo Lopez oggi 6-7 agosto 2020 è un danno per la Roma purtroppo poi più avanti magari potrà riconfermarsi ed arrivare a buoni livelli ma ora come ora se lo dovessero cedere non mi dispiacerebbe per niente dico solamente questo per quanto riguarda invece gli altri giocatori non mi sento di dire che hanno deluso Kalinic non mi aspettavo più dei 6 gol credo 5-6 gol che ha fatto in stagione Mkhitaryan comunque è un buon colpo che quando in forma mostra veramente delle buone qualità ieri purtroppo non lo era però ci può stare Veretù è il fulcro del nostro centrocampo Di Avarà può crescere molto non è un fenomeno ma è un buon giocatore in sintesi comunque non sono gli acquisti fatti quest'anno il problema il fatto è che tu hai una rosa purtroppo ancora molto deficitaria in ogni reparto e basta che manca uno dei titolari principali per cambiare completamente e stravolgere la manovra di gioco l'abbiamo visto ieri con l'assenza di Veretù con la squadra che con Cristante Di Avarà non è riuscita a costruire praticamente nulla perché non sono due giocatori utili in questo diciamo Di Avarà si può avere un buon piede per un lancio può recuperare palloni ma non è come Veretù che si gira tutto il campo e da una mano sia in fase difensiva che offensiva e purtroppo questa è una cosa che ci manca tanto perché la Juve non giocherà benissimo ma a livello di giocatori ha due rose ha titolari e riserve noi abbiamo dei buoni titolari e non abbiamo le riserve questo purtroppo è il problema dovuto anche a quel pezzo di merda pelato che ieri ha festeggiato contro i giocatori che lui stesso ha acquistato cioè la maggior parte che lui ha acquistato quindi ecco comunque a parte questo piccolo sfogo personale purtroppo sei ancora in una fase di cambiamento dovuta ai tanti acquisti sbagliati a cifre spropositate Cristante per fare un esempio che non è scarso lo ripeto ma gioca in un ruolo non fatto per lui e lo è strapagato per giocare fuori ruolo quindi è una cosa veramente aberrante anche questa e appunto sei in una fase in cui tanti giocatori sono arrivati a fine carriera o comunque alla fine della loro esperienza alla Roma mi vengono in mente Fazio Juan Jesus Perotti Pastore e tanti altri che adesso non li ricordo tutti e quindi la Rosa ancora ha bisogno di tanti cambiamenti di tanti buoni acquisti e di tanti miglioramenti su ogni reparto io mi auguro nel prossimo mercato adesso non so bene come funzionerà chi lo gestirà se lo gestirà subito Friedkin perché comunque da quel che ho capito ci sarà la cessione definitiva entro fine mese però comunque tra poco comincerà il campionato e non ho ben capito se ci sarà tempo per poter fare acquisti oppure se bisognerà aspettare oppure se bisognerà tenerci questi giocatori per questo mercato e poi fare gli acquisti in inverno non so bene come funziona però in caso ne parleremo comunque di nuovo qui quindi ecco io nel complesso sono rimasto deluso da questa stagione non che mi aspettassi chissà cose cioè non è che mi aspettavo di lottare per lo scudetto di vincere per forza l'Europa League perché molti mi hanno accusato di questo quando io semplicemente ho detto che la Roma doveva lottare per vincerla perché con questa modalità bastava che facevi tre vittorie anche sporche e andavi in finale se non ci lottevamo se non ci provavamo noi chi ci lottava ho visto i laziali che mi prendevano in giro ma scusa la Lazio al posto nostro perché non avrebbe potuto lottarlo ma ci mancherebbe tre partite se in finale cazzarola può lottarci anche il anche il Copenaghen può lottarci basta che vinci due partite a culo va in finale questo l'avete capito quindi se non ci posso provare io chi ci può provare però comunque l'Europa League l'hai buttata al vento pur contro una squadra forte ma per come l'hai giocata l'hai buttata al vento la Coppa Italia l'hai persa anche per sfortuna perché comunque ti è capitata la squadra più difficile da affrontare in quel momento il campionato non è andato malissimo però hai comunque ottenuto un quinto posto che non è un miglioramento rispetto alla scorsa annata e quindi complessivamente per me la stagione è tutto tranne che positiva Fonseca dice positiva ma io ho qualche domanda in più me la farei adesso io spero che il prossimo anno comunque la prossima stagione si lavori per cercare di costruire un ciclo che non vuol dire stravolgere di nuovo tutta la rosa ma darci continuità e tenere i giocatori che meritano la maia della Roma dicono che Freddy che la prima cosa che vorrà fare è riacquistare Smalling definitivamente me lo auguro mi auguro che lo faccia e mi auguro che faccia gli acquisti giusti per rinforzare la rosa e renderla adeguata alla prossima annata io non voglio dire veramente altro perché sono già 16 minuti che parlo mi auguro appunto che abbiate apprestato questa mia analisi definitiva e conclusiva di questa stagione farò uscire comunque il pagelone tra qualche giorno poi mi dedicherò esclusivamente al calciomercato magari con qualche recensione delle partite europee se mi va lo sottolineo se mi va e poi più avanti vedremo un po' se ci saranno novità importanti per quanto riguarda società mercato Roma eccetera eccetera un saluto dal vostro Gretto Reggio Rosso fatemi sapere nei commenti la vostra analisi conclusiva di questa stagione come sempre deprimente della nostra Roma che comunque ameremo sempre ma ci fa sempre soffrire diciamo che il nostro amore va in base a quanto ci fanno soffrire un saluto e sempre e comunque forza Roma ciao ragazzi Gretto Reggio Rosso